La radio è il medium tra i più amati, tra i più emozionanti, che tiene testa al tempo e alle nuove tecnologie e che si adatta alle evoluzioni dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Di questo e tanto altro si è parlato durante il convegno suoni e visioni della radio 2024, 100 anni di emozione tra passato, presente e futuro, che si è tenuto nel complesso federiciano di San Marcellino. La radio è il medium più antico, ma anche il più capace di trasformarsi in funzione dei cambiamenti sociali, culturali e tecnologici, ha dichiarato il professore Lello Savonardo, coordinatore del corso di laurea magistrale in comunicazione pubblica, sociale e politica della Federico II. Suoni e visioni della radio, 100 anni di emozioni tra passato, presente e futuro, è un convegno che ci permette di discutere con i giovani, per i giovani, di un mezzo tecnologico che è riuscito ad evolversi attraverso i cambiamenti sociali, culturali e tecnologici. E lo facciamo con Confindustria e Radio Televisione e con i massimi esperti, gli editori, gli speaker, che si confronteranno anche con gli studenti di F2 Radio Lab, la radio dell'Ateneo Federico II, che sono informazione che in qualche modo ci aspettiamo possano essere le nuove voci delle radio future. F2 Radio Lab è la radio dell'Università Federico II che dimostra quanto si possano vincere le sfide del futuro attraverso i giovani, sfide quotidiane che riguardano anche l'introduzione dell'intelligenza artificiale e i dati di ascolto che sono in crescita. Ascoltiamo Franco Sidi, presidente Confindustria Radio Televisioni e Rosario Alfredo Donato, direttore generale Confindustria Radio Televisioni. Non solo i sistemi delle macchine che in qualche modo ti consentono di organizzare con degli automatismi la programmazione che va in onda, ma anche i sistemi dell'intelligenza artificiale con i quali devi convivere e coabitare, però mantenendo tu il ruolo di protagonista nel controllo, nella verifica, nelle scelte che fai e nella verifica di ciò che eventualmente ti propone l'intelligenza artificiale, altrimenti finiamo tutti. Il mercato tiene, gli ascolti tengono, però non bisogna abbassare la guardia e comunque la nostra presenza anche all'Università Federico II ha uno scopo ben preciso, cioè i giovani si sono un po' allontanati dall'ascolto della radio, però i giovani di oggi saranno quelli che ascolteranno la radio tra 5-6 anni, quindi fare un'azione di comunicazione a questo livello, ma anche partendo dalle scuole superiori, secondo noi è un investimento che va fatto.